La Direzione Investigativa Antimafia di Trapani ha sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore mazzarese Giuseppe Burzotta, 65enne, e del figlio Andrea, consigliere comunale di Mazzara del Vallo, già consigliere provinciale. La proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata dal direttore della DIA, Nunzo Antonio Ferla, è stata accolta dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, che ha emesso il provvedimento. Le indagini sono state condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia, d'intesa con il procuratore aggiunto Bernardo Petraria, che coordina il gruppo misure di prevenzione della DIA di Palermo. Burzotta, imprenditore molto conosciuto in città, già sorvegliato speciale ma mai condannato per reati mafiosi, viene considerato dagli inquirenti vicino a Cosa Nostra. Secondo le indagini della DIA di Trapani, sarebbe emerso che avrebbe costantemente fornito supporto economico e finanziario ai membri della famiglia mafiosa di Mazzara del Vallo, ovvero ai familiari degli stessi, ovvero ancora ad imprenditori indicati dagli stessi del sodalizzo criminale. Le intercettazioni, i riscontri bancari e le numerose testimonianze raccolte hanno dimostrato che l'imprenditore avrebbe finanziato le cosche mazaresi attraverso il ricorso ad attività finanziarie illecite e alla gestione occulta di imprese intestate a prestanome. Coinvolto nel sequestro anche Andrea Burzotta, figlio di Giuseppe, che è stato consigliere comunale di Mazzara del Vallo e consigliere provinciale, ritenuto complice del padre nell'attività di trasferimento fraudolento di beni. Gli accertamenti economici e reddituali effettuati dalla DIA avrebbero evidenziato l'esistenza di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da padre e figlio. Fra i beni sequestrati, 11 fabbricati, 9 tra autocarri e automobili, 25 terreni, 39 rapporti bancari, l'intero capitale sociale e il compendio aziendale di quattro società.